Ciao a tutti e ben trovati di nuovo in un video riguardante il modellismo agricolo Allora ne sono arrivati altre tre Come ben vedete sono due marchiati ROS e abbiamo come al solito un Universal Hobby Allora usare da prassi Vediamo le scatole come sono Le scatole quindi se ci è portato qualcosa riguardante il modello Potenza e quant'altro Misure varie Quindi io direi di cominciare Quindi adesso io sposto Vediamo un po' Con il Lemken Cominciamo con il Lemken Allora Lemken Trivomero Allora la scatola si presenta in questo grigio Come detto è un Universal Hobby Allora in basso abbiamo la scritta Lemken Lemken Mountain Reversible Plug Opal 090 In alto a destra esattamente la scala Anche nella parte superiore c'è scritto Lemken Vediamo qua che c'è scritto Lemken di Agro Vision Company Quindi compagnia agricola non lo saprei Poi Vediamo la parte posteriore Che qua c'è il prezzo Quando l'ho comprato io 42 Questa è la parte posteriore Comunque è un Aratro Trivomero Per trattori di non molta potenza Quindi andrebbe bene Mi sembra da un 60 a 110 Se non vorrei sbagliarmi E questo ci fa vedere Come sarebbe l'Aratro Però l'Aratro che ho comprato io Non è così Ci fa vedere questo Lemken Questa sarà una versione dove Non mi ricordo come si chiama questo tipo di vomero Del tipo pieno Quindi comunque non è questo Nella foto della scatola E questo è come si presenta il Lemken Per quanto riguarda L'Aratro del Opal 090 della Universal Hobby Quindi Passiamo al prossimo Io passerei a questa Bellissima Feraboli Xtreme 265 Allora io L'ho avuta tempo fa E non mi ricordo che la scatola fosse così Mi la ricordo diversamente Della scatola del Feraboli Forse mi sto sbagliando con qualche altro modello Ma io non me la ricordo così bella Vedete Alcor non si comanda Alcune foto Della rotoimballatrice in funzione Comunque prodotta dalla Ross Azienda italiana Ovviamente comunque è sempre tutto male in Cina E Mettiamolo Specifichiamo Comunque si presenta con La scritta in basso O scritta Xtreme Feraboli Con il brand qui sulla destra Come vi ho fatto vedere già prima La parte superiore con delle foto Dell'attrezzo Avere a cui non si comanda Girando la scatola Questa sarebbe la parte posteriore Della rotoimballatrice E questa è la parte posteriore E questa è la parte posteriore del modello E ci fa vedere che probabilmente ci sono Praticamente ci sono delle parti apribili Quindi una volta che la andiamo a scartare Vedremo tutto quanto Qua c'è l'indirizzo Dell'azienda dove viene costruita Quindi vedete Officine meccaniche Ingegner Ah non so forse Antonio Probabilmente Feraboli S.p.a. Con tutti i numeri di telefono Fax Cremona Vedete Feraboli.com Dunque No effettivamente la scatola Che avevo io dieci anni fa Non era così No Perché non me la ricordo così E questa è l'altra parte Per quanto riguarda Laterale della scatola Io sinceramente Sotto cosa c'è Vabbè sotto c'è scritto Le varie lingue Io come dicevo Guardate qua Che c'è scritto Made in China Sembra che si mette a fuoco ovviamente Ma si legge Ok Adesso arriviamo Alla parte bella Sempre rosse New Holland 11090 Questa Se non sbaglio È l'ultima serie Quindi appena Era diventata Gruppo New Holland Fiat Quindi Fu cambiata La verniciatura Dei trattori Quindi Blue con La cabina Nera E niente Allora Come si presenta Si presenta Con La scritta rossa In alto a destra E in basso A sinistra Il modello 11090 New Holland Con la scala La parte Superiore Mi mostra Questa cosa qui Distribuiti Da Minitoys Minitoys Punto F Fr E praticamente Ci segna Che è una Serie limitata Da 3500 Esemplari Quindi Sono stati Costruiti 3500 Esemplari Di questo Modellino Quindi Del 11090 New Holland Si presenta Così Questa È una Dei lati Questo Praticamente Sarebbe Sulla mia Destra La parte Posteriore Una Bella Foto Del Sembrerebbe Il Vero Con La scritta In alto New Holland Scala 1.32 Ovviamente Con Un Aratro Questo È l'altro Lato Che è Identico A quello Di Prima Vediamo Di sotto Di sotto Come Sempre Scritto Nelle Varie Lingue E Cosa C'è Scritto Qua In Italiano Importante Da Conservare Non adatte I bambini Di Età Inferiore Agli 8 Anni La presenza Per Pezzi Piccoli Smontabili Beh Effettivamente Ci sono Pezzi Molto Piccoli Che I bambini Potrebbero Ingerire Allora Questi Sono I Modellini Adesso Vabbè Quelli Sono Quelli Abbiamo Già Scensito Li Andiamo A Scartare Quindi Io Li Aprirò E Andiamo A Vedere Un po' Nel Dettaglio Questi Modelli Ci vediamo Tra un Attimino Allora Eccomi Qui Ho Scartato I Modelli Quindi Siamo Pronti Per Vederli Assieme Allora Come Al Si Presenta Il LEM Che Una Volta Aperto Il Modello Cioè Modello Dalla Scatola Allora Un Attimo Che Lo Prendo Tra Le Mani E Vediamo Un Po Allora Vedete Come Dicevo Io In base Alla Scatola Sono Diversi Qua I Vomery Allora Parti Vedete Ma Risimula I pistoncini Qui Poi c'è Questo pistoncino Che dovrebbe Far girare L'eratro Questo E il Pneumatico Il Modello Qua c'è la scritta LEM Aspetto Che va A fuoco Ok Vediamo Un'altra Prospettiva Così Ok Quindi In teoria Sembra Se non Faccio Danni Perché Purtroppo Mi Tocca Trovare Un Modo Per Tenere Il Cellulare Fermo Eh Miche Falle Allora Allora Vediamo Un po' Se riesco A far Così No Allora Volevo Vedere Se riuscivo A Sì Vedete Questo Questo qua Gira Effettivamente Gira Fa Girare Non Riesco Se non Lo dobbiamo Provare Poi Su 110 Così Vediamo Bene Come Gira Comunque Queste Sono Le altre Parti C'è Questo Pezzettino Qua Nero Che Sarebbero Dei Tubi Questi Qua Sì Vedete Questo Qua Comunque Un bel Un bel Attrezzino Frivomero Per Trattori Di Bassa Potenza Quindi Non Esageratamente Potenti Io Deciderei Di Metterlo Di Nuovo Posto Su Mi Ricordo Se Andava Così Abbiamo L'appoggio Così Che Sicuramente Non Era Così Posto Suo E Passerei Al Feraboli Allora Feraboli Ci Dà In dotazione Anche Una Rotoballa Ovviamente In Plastica Apriamo Quindi Questa È La Rotoballa Una Plastica Questo È Il Modello Vediamo Se Esce Se L'ho Staccato No Non L'ho Staccato Ad Il Momento Che Lo Stacco Immediatamente Facciamo Indiretto Faccio L'animale La Furia Ho Dimenticato Di Staccare Perché Io Comunque Questi Pili Ne Recupero E Non So Che Facci Poi Quando Cerco Di Non Far Danni Ok Ho Fatto Allora Prendiamo Il Modello E In Dotazione Oltre Alla Rotoballa C'è Questo Che Dovrebbe Essere L'adattatore Di Di Questo Qua Quindi Sarebbe Della Pto Allora Il Modello Si presenta Così Anteriormente Questo E Il Piede Questo Qua Per Quanto Viene Staccato Dai Mezzi E Lo Volete Piazzare Non Attaccato Quindi Questo È Il Classico Piede Da Stazionamento Come possiamo Dire Il Timone Ed Si Alza Si Abbassa Che Si Può Adattare Ai Vari Tipi Di Ganci Questo Come Vi Dicevo Era Pto Che Comunque Dovrebbe Girare Si Vedete Gira Ok Ci Sono Adesivi Che Vanno Sul Mezzo Quindi Signale Di Pericolo Tutto Il Resto Queste Cose Qua Dovrebbero Simulare Non So Penso De Delle Leve Per Della Rotoballa Poi C'è Questo Cavo Qua Penso C'è Roba Di Capi Della Luce Sicuramente Questa E La Parte Superiore Del Modello Poi Parte Posteriore Come Al solito Sempre Adesivi Di Pericolo Rende Fatta Molto 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 Bene E Se Non Ricordo Male Questa Parte Si Dovrebbe Vedete Aprire Per Poter Mettere La Rotoballa Questa Parte Qui In Gomma Fa Anche Lo Scatto E Adesso Andiamo A Aprire Gli Sportelli Laterali Allora C'è Questo Sportello Qua Che Si Apre E Quest'altro Sportello Qua Che Si Apre Allora Io Adesso Non Sono Un Esperto Quindi Non So Effettivamente Qui Cosa Ci Sia Troppo La Luce Si Vede Molto Bene Sulla Parte Sinistra Prende Sulla Parte Destra Se Non Sbaglio Qua Ci Dovrebbero Essere Dove C'è Questi Qua E Dove Vanno Le Bobine Del Filo Se Non Sbaglio Per Le Rotoballe Sempre Segnale Di Pericolo Rende Fatta Spettacolare Sto Modello Per Quel Che Costa Ha Fatto Veramente Veramente Bene Quindi Come Dicevo Questo Sicuramente Andrà Qui Io Provo A Cacciarlo Senza Fa Danni Ma Questo Sicuramente Va Qua Sì Questo Va Qua Il Momento Che Lo Inserisco Sì Dovrebbe Andare Sì Va Lì Credo Che Vada Lì Perché Non Vedo Altri Altri Posti Dove Potrebbe Andare A Meno Che Non So Boh Io Penso Che Vada Qua Ok Allora Cosa Penso Di Questo Modello Spettacolare Bellissimo Credo Da come Ho capito Non lo Producono Più Da un Po Di Tempo Però Qualità Prezzo Ottimi Perché Veramente Poi Anche Italiana Guardate Che Bella Questo Andrebbe Bene Attaccato Al 110 Andrebbe Proprio Perfetto Ok Allora Feraboli Abbiamo Finito Abbiamo Finito Per quanto Riguarda La Feraboli Io li Metto A posto Perché Se no Faccio Danni E Passiamo Al New Holland 110 90 Della Ross Allora Cosa Mi Danno In Dotazione Questi Sono Dei Lampeggianti E Quell'altra Cosa Non so Cos'è Quindi Sono Lampeggianti E Non So Cosa Poi L'apriamo E Prendiamo Il Modello Eccolo Qua In Tutta La Sua Bellezza Cammina Molto Bene Le Gomme Sono Buone Però Questa Non è Non la Sento Proprio Gomma Sul Dietro No Non Sento Gomma E Proprio Plastica Plastica Allora Particolare Del Modello Vediamo Un po Come Gira Oddio Non è Proprio Il Massimo La Cosa Brutta Che Si Vede I Puntini All'interno Di Questi Fari Però Boh C'erano A me Non Piacciono Oscilia Non Oscilla Molto La Sola Anteriore Questo E Supplementari Gli Adesivi Del Gruppo New Holland Vedete Il Pneumatico O La Spiga Non lo So Frecce Poi Gli Specchietti Sono Tutto Gomma Generalmente Un po Paura Di Romperlo Vedete Sul In alto La Cabina C'è Scritto Sempre Se Riesce Andare A Fuoco Il Mio Tradition Quindi Tradizione Non So Vedete Tradition Siete Un po L'interno Del Mezzo Chiaramente Si vede Ben Poco All'interno Quindi Vi girare Quest'altro Lato Se c'è Ancora Qualche Dettaglio Che Riusciamo A Vedere Ma No Scritta New Holland 110 90 Gli Scalini Pneumatico Si Detto Prima Non la Sento La Gomma Sendo Tutta Plastica E Qua Dietro Sarebbe L'attacco A tre Punti Allora Qui Manca Un Pezzo Quindi Probabilmente E Qua Dentro Se Non Sbaglio Un Pochettino Sembra Un Po Piegato Vedete Non è Perfetto Comunque La parte Qua E Verniciata Non è In Plastica Quindi Rosso E Arancione Sono Verniciati Invece Questo Pure La parte Qua Sopra E Verniciato Che Devo Dire Un Modello Abbastanza Carino Non è Nulla Di Eccezionale Non ha Nessuna Parte Che Che Si Apre Sembrerebbe Molto Basic Come Un Britains Il Costo Io L'ho Pagato Da un Venditore In offerta 39 Euro Allora Quando è Uscito Non mi Ricordo Penso Fosse Sulla Cinquantina Della Ross E Niente Io Il Video Sto Diventando Molto Lungo A Dire La Verità Diventando Molto Lungo E Provo A Fare Una Cosa Vorrei Provare A Montare Il Lem Quindi Mi Fermo Un Attimo Il Piazzo Qua Davanti Che Voglio Fare Una Cosa Allora Trocca Tre Punte Purtroppo Sembrerebbe Fregato Quindi Boh Vediamo un po' Se riesco Ad Inserire Bene o Male La Rato Ma Sembrerebbe No Sembrerebbe Di No Non Riesco Non Riesco Perché Troppo Piegato Quale Limite Non Va Proprio Oh No No Sono Riuscito Sono Riuscito Ok Ok Ecco Quello Che Sono Riuscito A Fare Lemken Variopal Con New Holland 110 90 Ah Ho notato Una cosa Mentre Stavo Montando La Rato Che Qui Sopra In Alto Vedete Ci Sono Due Buchetti Non So Se Si Vedete Ci Sono Due Buchi Per Poter Mettere I Lampeggianti Quindi Questo È Il New Holland 110 90 Con La Rato Variopal Questo Ovviamente Come Vi Dicevo Prima Si Gira In Questo Pistoncino Dà la Possibilità Di Far Girare Il Modello E Questo È Quando Ragazzi Allora Di Questi Tre Modelli Ovviamente Consiglio Questa In Tutto E Per Tutto E Anche Questo Aratro Per Trattori Di Bassa Potenza Il 110 Si È Un 110 Tradizione Fiat Ross Però Per me Di Bassa Qualità Molto Molto Simile Al Britains Non ci Sono Molte Parti Interessanti Non so Di Riproduzione O Quando Comunque Per Quello Che Costa Sinceramente Se Devo Prendere Un Britains Prendo Questo Semplicemente Perché New Holland E Vogliamo Provare Mettere Il Feraboli Vediamo Un po' Come va Con Feraboli Proviamo A Mettere Il Feraboli Nel Senso Che Faccio Danni Questa Con Molta Delicatezza La Poggiamo Qua Tu Vieni Qua Ok E Si Presenta Così Con Il Feraboli Non so Se Gli Basti La Potenza Del New Holland 210 Penso Di Si Non Credo Che Gira Molto Molto Bene Va Bene Ragazzi Io Spero Che Questo Video Stia Stato Utile Anche Per Non So Farvi Vedere Alcune Particolarità Di Questi Modelli Allora Come Vi Dicevo Se Volete Comprare Una Rotopressa O Rotoimballatrice Come la Volete Chiamare Non La So Questa Qualità Prezzo Indiscutibile Trattore Se Per Quando Riguardo Agli Aratri Si Se Volete Andare In base A Quello Che Comprate Trattori Di Bassa Potenza Avete Bisogno Di Un Aratro L'M Can Consiglio Anche Io Questa Qua Universal Lobby Ross 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 Agritech Una Volta Adesso Non Ci Sto Capendo Più Niente Va Bene Ragazzi Io Vi Ringrazio E Ci Si Vede Al Prossimo Video Prossimi Acquisti Ciao Ciao